E' mercoledì 24 aprile, sono le 7, buongiorno, benvenuti ad Omnibus News. Allora è stato un consiglio dei ministri molto lungo e molto agitato, quello che è iniziato nella serata di ieri e che si è chiuso soltanto alle prime luci di oggi. Uno dei più tesi della storia dell'alleanza fra Lega e Movimento 5 Stelle che sono arrivati ieri, così sembra, a un passo dalla rottura. Salvini comunque ha ottenuto lo stralcio di alcune parti del cosiddetto Salva Roma con il movimento che annuncia battaglia in Parlamento. Ha provata invece la norma sui rimborsi ai risparmiatori truffati dalle banche con un tetto che sale da 100 a 200 mila euro. A tenere molto alta la tensione ha anche l'attacco durissimo, nuovo, da parte del Movimento 5 Stelle nei confronti del sottosegretario reghista Siri del quale vengono chieste le dimissioni. Sul blog delle stelle ieri è comparso infatti una serie di quesiti, quattro, proprio per l'esponente del carroccio, non più rinviabili, che riguardano i suoi rapporti con l'imprenditore Nicastri e con il consulente Arata. Le polemiche fra gli alleati hanno riguardato anche la vicenda del 25 aprile, domani festa della liberazione. E poi c'è l'Isis che ha rivendicato l'attentato, la serie di attentati che nel giorno di Pasqua hanno colpito lo Sri Lanka. La rivendicazione è arrivata tramite delle immagini del gruppo di kamikaze prima della loro azione. Questo, mentre il primo ministro cingalese non esclude la possibilità che sull'isola vi siano nuovi attentati. E poi il leader, il dittatore nordcoreano Kim Jong-un, che poche ore fa, un paio d'ore fa, ha attraversato il confine fra il suo paese e la Russia, perché domani a Vladivostok avrà un vertice con il presidente russo, Vladimir Putin. Veniamo subito alle prime pagine di oggi. Ecco il Corriere della Sera, che parla di una vera rissa nel governo sul Salva Roma. Salvini ha annunciato lo strappo, è uscito fuori e ne ha parlato con i giornalisti, lo stralcio scusate, e il Premier Conte è stato durissimo contro di lui. Non ti permettere di anticipare decisioni che vengono prese solo in Consiglio dei Ministri. Poi l'accordo a metà. Vedete una lettera di Silvio Berlusconi al Corriere, in vista del voto europeo, popolari e liberali insieme, con i sovranisti illuminati. Qui, il 25 aprile, chi fa la politica studi la storia, un colloquio con la senatrice Segre. Al centro della prima pagina, eccolo qui, il kamikaze con lo zainetto, quella carezza prima del boato. Eccolo, uno degli uomini dell'Isis, mentre trasporta, non lo vedete, lo ha qui sulle spalle, la bomba che sarebbe stata fatta esplodere dopo pochi istanti, mentre saluta una bambina all'ingresso dell'obiettivo. Ancora, la Repubblica è ufficiale, il governo sono due con questa voluta sgrammaticatura. Rottura, caos e diserzioni al Consiglio dei Ministri. Conte sfida Salvini, non siamo i tuoi passacarte. Come vedete, titolo molto duro del quotidiano romano. Ecco la stampa, governo in bilico sul Salva Roma, titola il quotidiano diretto da Maurizio Molinari. Al centro della prima, una grande foto dedicata a New York. Il sindaco De Blasio dice, alte con i grattacieli di acciaio e vetro nella città. Obiettivo è ridurre le emissioni del 40% entro il 2030. Sicuramente quel tipo di costruzioni non aiutano. Ecco il messaggero, Salva Roma, guerra nel governo. E poi, la foto grande, hanno un volto i killer della strage di Pasqua. Lo vedete ancora, quel giovane con lo zainetto, quello che abbiamo visto anche nella foto del Corriere. Il 24 ore, decreto crescita. Ultimo scontro sul Salva Roma. Sì, perché il provvedimento nel quale era contenuto il Salva Roma era proprio il cosiddetto decreto crescita. Eccolo il Carlino. Il governo è al punto di rottura. E poi, qui, passa lo straniero. Mancano i medici. Via libera ai laureati dall'estero. Avvenire, c'è l'ombra del Daesh. Si parla naturalmente dell'attentato, della serie di attentati in Sri Lanka. Paralisi totale, invece, per il giornale, che insiste, descrivendo il governo, nel caos. Eccolo il fatto quotidiano. L'ora è grave, ma non seria. Separati in casa, il riferimento. E a Lega e Movimento 5 Stelle. E poi, la verità, cristiani uccisi due volte. Prima le bombe, poi la negazione dell'identità. Dice il quotidiano di Belpietro. Il mattino salva Roma. Rissa nel governo. E ancora, il secolo XIX, quotidiano genovese, che parla del governo delle liti. E poi ci dice che è stata riaperta via FIAC a Genova. Snodo molto importante. Libero, Lega, sotto assedio giudiziario. Carroccio, in balia dei magistrati. Ci fermiamo solo qualche istante. Sette e dieci minuti. Allora, proviamo a ricostruire attraverso le pagine del Corriere quello che è successo nel complicato Consiglio dei Ministri della Notte. Scontro totale, ancora una volta, ma era abbastanza previsto, sul Salva Roma. Dopo la lite, dice il Corriere, si è fatto l'accordo, ma solo a metà. Allora, il Consiglio dei Ministri è iniziato con ritardo. Poi c'erano tutti i ministri leghisti, ma pochi ministri del Movimento 5 Stelle. È arrivato Di Maio, che era negli studi proprio di La Sette, perché partecipava al programma di Florissa di martedì. E allora si è riusciti a trovare una via d'uscita. Quattro ore di tensione. Alla fine, Salvini vince in parte perché i debiti, così dice, restano alla raggi. E i 5 Stelle sottolineano, come questo, sia solo un punto di partenza. A testimoniare quanto si è animata in questo momento la discussione, il confronto fra gli alleati di governo, questa intervista alla Ministra della Sanità, Giulia Grillo, che dice che nel Carroccio ci sono opposizioni medievali. A cosa si riferisce? Eccolo qua. La Lega mette in discussione l'aborto e pensa che la donna, nell'interrompere la gravidanza, commetta un omicidio. Non possiamo essere d'accordo con chi pensa che gli omosessuali vadano bruciati come in epoca medievale. Ecco, insomma, toni naturalmente molto polemici e dice poi, non so se abbiamo i giorni contati come governo. Questo è il momento di maggior lite. Matteo, non ti permettere, le sono le parole del Presidente del Consiglio, Conte, che dopo le dichiarazioni alla stampa, proprio da parte del suo vicepremier, attacca con durezza Salvini. I Cinque Stelle ripescano anche una mail di Garavaglia, esponente di punta all'Economia, al Ministero dell'Economia della Lega, che aveva dato l'ok al Salva Roma. Ancora, sempre su questo tema, contraste all'interno della maggioranza. Quattro domande sul blog delle Stelle, eccolo qui, da parte dei Cinque Stelle, che incalzano proprio Siri, chiedendogli le dimissioni. L'indagato, dice il Corriere, chiama i pubblici ministeri e dice io voglio parlare e chiarire la mia posizione. L'imprenditore Arata così curava, dice il Corriere, i rapporti con Nicastri, che è l'altro imprenditore. E ancora, sempre per parlare di politica, questo ritratto fatto da Monica Guerzoni. Non ci muoviamo di un millimetro. Il sottosegretario, che resta sempre Siri, Armando Siri, con il leader Salvini, resiste al suo posto. Ci sarà tempo per chiarire. Non mi risultano soldi ricevuti, dice ancora Salvini. La pagina che vedete qui, invece, è quella dedicata al decreto crescita, quello che era in discussione ieri. Via libera ai rimborsi bancari, anzi, con una novità importante, salgono da 100 a 200 mila euro. Nel testo le norme per il Salvaroma, ma ancora da completare, parola alle camere, dice il Corriere. Qui, invece, Gian Antonio Stella ci racconta una storia che ha dell'incredibile. Privatizzazione, i conti che non tornano. E racconta la storia della caserma Miale di Foggia, che è questo stabile qui. Ebbene, sono 16 mila metri quadrati coperti e 6 mila cinquecento di giardino. Era stata venduta a 624 euro per metro quadro dallo Stato, che ora paga un affitto di 45 mila euro al mese. E proprio questa storia, l'edificio, lo vedete qui, fu comprato dal Fondo Patrimonio 1 di BNP Paribas. Lo Stato nel 2005. Nel 2011 non bastavano 25 milioni per ricomprare la caserma. Un prezzo molto più alto di quello che era stato quello della vendita. Polemiche nel governo, anche sulla vicenda del 25 aprile, la festa della liberazione. Domani Salvini dice non ci sarà di mai o grave negare questa ricorrenza. e sono loro gli stessi del Congresso di Verona. Quindi ancora polemica tesissima. Il Corriere intervista la senatrice Segre. I politici, vedete il titolo, non possono ignorare la storia. Così chi ha dato la vita muore di nuovo. E chiudiamo questa parte di politica con la lettera che invia al Corriere il leader di Forza Italia, Berlusconi, che chiama tutti al voto europeo del 26 maggio e lancia l'idea di un'alleanza fra popolari, sovranisti illuminati e liberal-democratici per guidare la nuova Europa. Solo uniti si può sfidare la Cina comunista, che resta, come si vede, un'ossessione del leader di Forza Italia. Notizia molto importante e significativa questa che leggete in questa pagina. Qui si parla tanto di vaccini. Bene, in Africa se ne sperimenta uno che potrebbe essere rivoluzionario. in Malawi la sperimentazione di un vaccino anti-malaria e per l'Organizzazione Mondiale della Sanità questo è un grande passo in avanti per una malattia che fa ancora tantissimi morti. Siamo alla Repubblica. Siri salva gli affari sul biometano. Queste sono alcune intercettazioni che riguardano l'indagine su Siri. Arata, il famoso consulente, il professore, esulta. Fregati i 5 stelle. E poi qui sotto, da un programma televisivo della RAI di Report, l'imprenditore, il figlio dell'imprenditore di Arata, ecco, è questo ragazzo qui, portò Bannon, ecco, lo vedete, Bannon all'incontro al Viminale con Salvini. E questa è la storia che viene raccontata. Ancora intervista a Zingaretti, al segretario del PD, qui sul Repubblica. Ancora pagliacciate, grillini complici e vittime della Lega. E poi l'attacco sul 25 aprile, accusando tutti di ipocrisia. E poi c'è la storia di Taranto. Oggi nella città pugliese sarà il vicepremier di Maio. Blitz dei 5 stelle cambiano i commissari dell'ILVA, l'azienda che ora è diventata Arcelor Mittal. Pagine dedicate alla strage in Sri Lanka. Ci hanno mandato a morire. Funerali con accuse al governo, perché la Presidenza della Repubblica sapeva, ma non aveva avvertito il governo. E poi questa è la terribile foto di gruppo del commando dei kamikaze. L'Isis ha rivendicato questo agguato. Tuniche nere e coltelli. Il video rituale sancisce che l'Isis prova a risorgere proprio dall'Asia, dopo la sconfitta militare in Siria. La stampa. Anche la festa di liberazione, come vi dicevo, allontana Di Maio da Salvini. Altro motivo di polemica. Interessante. Questa sentenza della Cassazione che dice che vanno accolti i migranti gay che rischiano in patria. È una sentenza della Cassazione. I paesi di origine devono tutelarli e non avere leggi omofobe. Quindi un nuovo paletto, diciamo, per le accoglienze. Questo è Weber, il candidato popolare che lancia la corsa da Atene, città teoricamente nemica della Germania. Dice di volere riforme per l'Unione Europea e non austerità. Molto interessante, invece, è questo articolo che riguarda New York. Svolta di De Blasio. Addio ai grattacelli di acciaio e vetro. Le emissioni entro il 2030 vanno abbattute del 40%. E poi c'è la replica durissima di avversari e costruttori perché dice che vuole riportare indietro una città che proprio grazie a acciaio e vetro è quella così conosciuta in tutto il mondo. Interessante. Dal sole 24 ore questo articolo. Ricordate, ieri è arrivato l'ammonimento di Trump a smettere di acquistare il greggio libico. Bene, il prezzo del petrolio è cresciuto. In autostrada la benzina ormai è volata sopra i 2 euro al litro. Un prezzo molto alto. Questa, invece, è una questione che sta suscitando ulteriori divisioni fra Lega e 5 Stelle. E' questa vicenda di un uomo, un uomo georgiano, accoltellato nei pressi alla stazione Termini qualche giorno fa da un marocchino. La spiegazione del Viminale è per il crocefisso. Si sta indagando, invece, perché pare che sia stata solo una lite fra Clochard. Polemica con i 5 Stelle, perché Salvini chiede di elevare il livello di allerta. Oggi ci sarà un vertice al Viminale. Storia che arriva da Genova, si torna a passare in via Fillac, protesta dei negozianti in crisi. Ed è una buona notizia per il capoluogo Ligure. Interessante, importante, eccola qui, quest'altra notizia. Stanno andando in pensione diversi medici, quota 100 e altro, le regioni fanno da sé, assumono anche medici stranieri o ancora privi di specializzazione. Polemiche da parte dei sindacati. L'ultima citazione arriva dal Quotidiano Nazionale, dal resto del Carlino. Una cosa abbastanza nota. Professori universitari, c'è il business dei titoli fasulli. Sono 2000 ricercatori coinvolti, sono stati spesi milioni di euro per pubblicare alcuni articoli che servono come titoli su riviste che pubblicavano proprio grazie a questi pagamenti. Io mi fermo con la rassegna stampa. Che cosa sta succedendo? Buongiorno Paolo, che è una mappa molto più larga del solito e vediamo l'Italia stretta fra due fuochi. Sì, anche dal punto di vista meteorologico abbiamo avuto l'attenuazione del maltempo di Pasquetta, se vogliamo di Pasqua anche per qualcuno. Il miglioramento c'è stato, adesso c'è questa nuvolosità abbastanza estesa che si sta avvicinando da ovest. Secondo regola, diciamo, secondo normalità, di solito queste perturbazioni si muovono verso est e quindi dovrebbe prendere tutte le regioni. In realtà i modelli ci dicono qualcosa di diverso perché per la prima parte della giornata di oggi vedete qualche nuvola, sì, arriva anche al centro e al sud, però le piogge riguardano in parte la Toscana Le Marche, l'Appennino, Tosco e Emiliano e poi vedete tutta la fascia alpina e prealpina, prendendola un po' larga la parte prealpina, con precipitazioni anche moderate o localmente forti. Poi in pianura il verde, delle deboli precipitazioni, però riguardano soprattutto il nord. Nella seconda parte della giornata si attenuano molte di queste piogge, ma come vedete resta Liguria, la zona delle Alpi occidentali, e poi il nord-est anche in pianura, piogge di una certa consistenza. Al centro piccole incertezze e al sud praticamente nulla. Giornata di domani, giovedì, queste nelle 24 ore, sud e centro, più che qualche nuvola non c'è, al nord ha ancora una certa presenza delle piogge, in prevalenza deboli, però sicuramente una giornata grigia, incerta. E poi la giornata di venerdì, in cui troviamo di nuovo delle piogge abbastanza estese e localmente intense al nord, questa volta una fascia di precipitazioni deboli o localmente moderate arriva anche al centro, niente invece per quello che riguarda il sordo. Quindi vedete il tempo, in qualche modo il maltempo si attenua, ma non si risolve, come si dice. Insomma c'è ancora molto movimento. Le temperature di questa mattina, le minime piuttosto elevate, perché spesso si va anche su questo giallo, vedete, che indica temperature superiori ai 12 gradi o 13 gradi. Per quello che riguarda lo stato dei mari, migliorato almeno sui bacini centrali, anche se a ovest e a est troviamo ancora mari da molto mossi ad agitati. Il prossimo appuntamento, se volete, è subito prima delle 7.55, con qualche foto di questo genere. Adesso c'è un po' di pubblicità, poi la prima edizione del nostro telegiornale con Edgardo Gulotta. A più tardi. Grazie. 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 Grazie.